Idea veloce e sfiziosa per cena panzerottini di pizza cotti in frigidificio d'aria. Per prima cosa condite la passata di pomodoro con sale, olio e origano e tagliate a dadini della scamorza. Srotolate un rotolo di base per pizza, io ho utilizzato una senza glutine che ho trovato in offerta in un supermercato di Lucera. Ricavate dei dischetti e farcite con la passata di pomodoro e la scamorza. Sigillate bene i bordi e fateli cuocere con una spruzzatina d'olio a 190 gradi 5 minuti per lato. Con i ritagli ho realizzato dei finti rustici di Wustel. Provateli, sono davvero sfiziosi e in alternativa alla base per pizza va benissimo anche la pasta sfoglia. Ciao a tutti!